Il 2017 è stato un anno di grandi successi per Peugeot, successi di prodotto con l'elezione ad auto dell'anno di 3008, ma anche successi nel mondo del motorsport. Nel campionato italiano rally siamo riusciti a portare a casa il decimo titolo costruttori in questa specialità in cui Peugeot da tanto tempo è protagonista e abbiamo voluto celebrare questi temi qui al Bologna Motor Show 2017. Novità importante qui allo stand Peugeot, un allestimento serie speciale limitato a 1200 esemplari, dell'iconica 208, la black line che si caratterizza per il design rappresentato da diversi particolari di colore nero con dei richiami di bianco, soprattutto nella calandra, nei cerchi in lega da 16 pollici e i vetri oscurati posteriori, elementi di design che danno un tocco ulteriore di stile alla piccola 208. Novità importanti anche all'interno con la presenza di serie del mirror screen, un elemento fondamentale oggigiorno che permette di integrare il proprio smartphone richiamando le principali funzioni sul touchscreen centrale, che poi è un elemento costitutivo del Peugeot iCockpit, un insieme di tecnologie che permettono di esaltare quello che è l'esperienza di vita a bordo della piccola 208. Accanto alla 208 black line troviamo la 308 GT, la nuova 308 che porta al debutto il cambio automatico a 8 rapporti, una primizia nel segmento di appartenenza, qui esposta nella versione a 5 porte ma è disponibile anche in configurazione station wagon. Un cambio automatico totalmente nuovo che viene abbinato di serie alla motorizzazione più potente della gamma diesel, l'UHD da 180 cavalli e che esalta quelle che sono le caratteristiche di erogazione di questo motore molto prestante. Nuova 308 che porta al debutto il pacchetto di sistemi di assistenza attiva ADAS, un insieme di tecnologie che contribuiscono a elevare ulteriormente quello che è l'asticella dei sistemi di sicurezza a bordo. Gamma SUV Peugeot, un successo incredibile anche nel mercato italiano, qui a Bologna abbiamo deciso di esporla in forma completa con la 2008, sposta nell'allestimento GT Line, quello più sportiveggiante, disponibile con motorizzazioni diesel, blu HD o PureTech turbo da 110 o da 130 cavalli. La 2008, in anteprima nazionale qui al Bologna Motor Show nell'allestimento Crossway, un allestimento che si caratterizza per un interno che combina l'Alcantara con il TEP e con particolarissime impunture di colore blu miramare. Un successo confermato anche dalle vendite che poi vengono anche declinate nel mondo di 5.800, il SUV a sette posti della Casa del Leone che sta ottenendo grandissimo successo anche nel mercato italiano, una dotazione di serie molto ricca per un SUV di grande successo. Alle nostre spalle abbiamo la 208 T16, la vincitrice del campionato italiano rally 2017, la vettura che ci ha permesso di arrivare al decimo titolo. Questa è l'ultima ma abbiamo esposta in un altro stand e nello stand Heritage anche la 206 WRC, la vettura che nel 2002 ha cominciato a scrivere questo importante capitolo di storia motosport italiana.